Ben ritrovati, buona giornata a tutti, Mimmo Moramarco per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, 23 aprile 2024, buon martedì, ricordo sempre che mi trovate su tutte le piattaforme podcast, Android, iOS, Apple, ma anche su tutti i social network come YouTube, Instagram, TikTok, Telegram e altri. A riete, nonostante nulla vi sembri girare per il verso giusto, saprete portare a termine un progetto. La determinazione e il coraggio ripagano e il vostro coraggio sorprende anche voi stessi. Audacia in amore e sul lavoro non vi manca, ma attenzione alle dinamiche familiari. Toro, potrete finalmente risolvere alcuni conti che avete in sospeso con una vecchia amicizia che in passato vi ha deluso particolarmente. Avete tantissime ambizioni, ma poco tempo per realizzarle. E ora che vi prendiate degli spazi, tutti per voi, accantonando il rimandabile. Gemelli, non dare per scontato che la bellezza debba essere sempre definita secondo i vecchi canoni. E ora di creare la propria definizione, non c'è bisogno di adattarsi ai modelli socialmente costruiti se questi non rispecchiano chi sei veramente. Il vostro compito non è quello di cercare di fare in modo che tutti vi amino, c'è solo una persona che devi soddisfare e quella sei tu. Cancro, sicuramente qualcuno sta aspettando un segno di distensione da parte vostra. Riponete l'ascia di guerra e siate sereni. Oggi qualcosa andrà storto, ma potreste raddrizzare la giornata non appena vi libererete dal peso che vi state portando dietro. Leone, oggi le stelle vi faranno sentire come se foste a pranzo con i vostri genitori o gli zii preferiti. Vi sentite speciali, amati e coccolati, felici di sapere che le cose andranno per il meglio. È il momento propizio, in alcuni casi, eccezionale per lavorare a progetti domestici, riorganizzare l'agenda o la scrivania al lavoro o procedere ad acquisti troppo a lungo rimandati. Vi sentite molto pragmatici, ma allo stesso tempo anche entusiasti. Non lasciate che questo momento vi sfugga. Vergine, oggi sarà un giorno eccellente per entrare in contatto con le persone interessanti. Anche se avvengono a distanza o via telefono, si tratterà di incontri importanti per il futuro, sia a livello personale che lavorativo. Attenzione però, non lasciatevi sedurre dalle sole idee anche la praticità alla sua importanza. Bilancia, prestate attenzione all'aspetto estetico. È arrivato il momento di farsi avanti con la persona che vi piace. Siate sicuri di voi, andrà bene. In questa giornata avrete diverse opportunità per mostrare al mondo il vostro valore. Sfruttate l'occasione per fare progressi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Scorpione, le faccende da fare in casa potrebbero essere in cima alla tua lista delle priorità oggi. Una visitatrice o un visitatore inatteso, imprevisto, potrebbe venire a farti visita e sarà quindi tua premura a mettere in ordine e rendere la casa più accogliente. Non fare più lavori del necessario, non vorrai essere troppo stanco. Quando? Questa sorpresa arriverà. Sagittario, non sopportate proprio gli spigoli neanche nelle persone. Oggi le persone con un certo caratterino vi faranno proprio impazzire. Giucatevi la carta cane bastonato per farvi perdonare qualche disattenzione, ma che non diventi un'abitudine. Capricorno, il vostro intuito è solitamente molto forte e il vostro livello di empatia migliora le vostre relazioni. Oggi un'esplosione di logica potrebbe permettervi di vedere molte cose sotto una luce diversa. Questo potrebbe rivelarsi prezioso per avvicinarvi alle persone che amate di più. Acquario, problemi zero, come diceva una vecchia canzone. Anche se ci sono, oggi non li vedete e fidatevi è molto meglio così. La leggerezza e la spensieratezza vi accompagneranno verso orizzonti inesplorati. Oggi magari è il giorno giusto per tornare a fare breccia nei cuori degli altri. Si chiude, come sempre, con i pesci. Oggi sembra che le altre persone non parlino la vostra lingua. Questo rende difficile per voi realizzare qualcosa di concreto sul posto di lavoro. Fate del vostro meglio per concentrarvi sui vostri compiti, senza lasciare che gli altri vi confondano con le loro opinioni. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, quello giornaliero con Mimmo Moramarco, 23 aprile 2024. Cercatemi su tutti i social, ma anche su tutte le piattaforme podcast e non solo. Se volete essere aggiornati, cercate anche www.ilmimmo.eu o mimmomoramarco.it. Grazie ancora per l'ascolto e a domani.